Sono due le criticità che il garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri ha riscontrato nel corso della sua visita alle novate. Nel reparto femminile lamentano la sospensione dell'erogazione dei farmaci prescristi dagli stessi sanitari della struttura, ad eccezione di quali salva vita, mentre da giugno è vacante il ruolo di garante provinciale. Lo ha detto lo stesso Cavalieri al termine delle visite effettuate a cavallo di Ferragosto negli istituti penitenziari di Parma, Reggio Emilia e Piacenza. In particolare ha visto le semisezioni e il centro clinico del reparto 41 bis a Parma, le sezioni transessuali donne e uomini sia circondariale sia reclusione a Reggio Emilia e il reparto donne, uomini sex offenders e di osservazione psichiatrica a Piacenza. Cavalieri, dopo aver rilevato che nel corso del periodo estivo nelle carceri si assiste a un incremento degli eventi critici, anche gravi come il recente suicidio di un recluso di 37 anni nell'istituto di Rimini, ha poi spiegato che nel contesto generale pesano anche criticità in ambito sanitario, con molti detenuti che lamentano lungaggini nell'erogazione delle prestazioni. In particolare, ha sottolineato, le detenute della sezione femminile di Piacenza lamentano la sospensione dell'erogazione dei farmaci prescritti dagli stessi sanitari della struttura, ad eccezione di quali salvavita. Su quest'ultimo tema, il garante si è quindi impegnato a ricercare un confronto con i dirigenti dell'assessorato regionale. Cavalieri ha poi indirizzato un invito alle amministrazioni locali di Piacenza e Parma per una pronta nomina dei locali garanti dei detenuti, assenti da febbraio a Parma e da Piacenza. Per quanto riguarda la situazione interna alle case circondariali, ha infine evidenziato come nei tre istituti si trovino complessivamente 1.374 detenuti, di cui 625 stranieri e 28 donne. Per Parma e Reggio Emilia si registra un sovraffollamento nell'ordine del 10%. Una situazione, ha quindi concluso, che non sempre consente alle amministrazioni penitenziarie, nonostante l'impegno degli operatori attivi nelle strutture, di garantire servizi adeguati alle esigenze del periodo, anche per le condizioni di estrema povertà in cui versano molti detenuti, come per numerosi senza fissa dimora e stranieri.